Che c'è? Ti andrebbe di provare? Ti insegno come si fa? Mi andrebbe, sì. Ma hai troppi muscoli di qua, non ci passeresti. Magia. La guardia. Così. Ok? Un sinistro lo blocchi così. Sì, brava. Sei lenta ma anche carina. Chi sei tu? Un vicino discreto. Uno che non fa troppe domande. Qui non piacciono a nessuno.